Musica Oggi colgo l'occasione proprio per sottolineare l'importanza di questo evento internazionale, una vetrina che riesce a far traslare quello che è il messaggio, un messaggio importante che portiamo avanti con la bellezza della Sicilia, questi 14 parchi unici, lo stiamo svolgendo questo evento proprio ad Agrigento perché a mio avviso è un elemento prodromico per Agrigento Capitale della Cultura 2025. Importante perché stiamo lanciando nel contempo quella che è la possibilità di far veicolare quel messaggio unico, la Sicilia è la terra più bella del mondo, una Sicilia che ha gran parte del patrimonio culturale proprio qui in questa terra splendida motivo d'orgoglio per noi, motivo importante per ancora una volta sintetizzare e sostanzialmente porre l'accento sulle bellezze della nostra terra.